Rata di presentazione per l'Avellino Calcio al Partenio Lombardi, in occasione del Media Day organizzato per presentare le nuove iniziative del club, dalla Fidelity Card alla nuova divisa da gioco ufficiale, il primo cittadino ha ricevuto in regalo il logo ufficiale dell'US Avellino. Un gesto da parte della società bianco-verde di collaborazione e di unione di intenti con il primo cittadino, che ha sottolineato le intenzioni di dar nuova vita allo stadio Partenio Lombardi. Uno spoiler di altri progetti in cantiere? Presto per dirlo, ma dalle parole del primo cittadino, sembra che il gruppo DAG stia portando avanti la progettazione del nuovo stadio Partenio Lombardi e che nel futuro prossimo, nel breve periodo, possa essere riservata qualche altra sorpresa per il pubblico bianco-verde. Stiamo allestendo una squadra competitiva, che sicuramente ci darà soddisfazioni. Aspettiamo al più presto che questo stadio possa essere popolato dai tanti nostri diffusi e poi lavoreremo anche per farne uno nuovo. Ma di questo parleremo di qui a qualche mese. Grazie.